Tante idee e progetti rimasti al palo per l'Aquila che per oggi l'assessore al turismo Fabrizia Quiglio, tornata finalmente al suo posto, può portare avanti. È un momento difficile, promuovere la città in piena pandemia è complicato soprattutto perché con gli spostamenti tra regioni non si possono ospitare turisti e proprio oggi l'assessore in una riunione online ha fatto il punto con gli albergatori per parlare di ripartenza, segnaletica turistica in città, implementazione dei servizi di informazione turistica e tanto altro da realizzare nonostante tutto. E questo si farà, progetti che l'assessore intende portare avanti. L'esperienza che noi siamo riusciti a ottenere, a raggiungere l'anno scorso con un'implementazione mai vista nel nostro territorio, nella città e nel territorio, perché io continuo sempre a parlare di città-territorio, ma è soltanto di piccolo nucleo centrale, deve essere non solo replicato ma questa volta bisogna giocare meglio. Quindi sicuramente la mia intenzione è quella di mettere a frutto e di far partire molti dei progetti che già erano pronti per partire e che adesso finalmente potranno vedere la luce. Mi riferisco sicuramente a quella che è la segnaletica turistica, sia essa direzionale che turistica all'interno della città. Tutto quello che può essere collegato alla informazione turistica, quindi implementando, quindi facendo finalmente, realizzando il contratto di servizio per la gestione dell'Infopoint in piazza Battaglioni Alpini e realizzando l'auspicato che era stato già programmato quest'estate, Infopoint a Fonte Cerreto, sempre nell'idea di legare strettamente quello che è il territorio della città, con la montagna che fa parte integrante di quello che è la sua cultura. C'è anche tutto il discorso dell'Aquila capitale della cultura. Il sindaco ha detto che il dossier e tutto il lavoro fatto non va sprecato al di là di come siano andate le cose. Per l'assessore Aquiglio la città è già capitale della cultura e tutto il lavoro corale fatto è una base importantissima da tenere in considerazione. Io penso che l'Aquila sia già capitale della cultura, quindi il dossier lo dimostra, perché il fatto che ci siano state tutte le realtà culturali e non solo della città che hanno capito l'importanza della sinergia, cioè di mettersi insieme e iniziare a parlare una lingua unica per poter promuovere, per poter far crescere quella che è la dinamica culturale della città, secondo me è già quello un punto di partenza. Sono certa che tutto il lavoro fatto in modo mirabile e con moltissimo coraggio e anche con tanta coralità da parte della città non può essere sprecato, soprattutto perché hanno focalizzato l'attenzione su un argomento che la cultura non è soltanto quella che solitamente si ritiene cultura, che può essere quella legata allo spettacolo, all'arte, ma la cultura è un modo di essere.